bene vi avevo detto nel video precedente che non trovavo più i filmati di quando facevamo il carrello con le pareti rigide ecco in realtà li ho trovati la qualità come vi avevo annunciato è molto 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 scarsa qui comincia una cosa abbastanza buffa allora noi qui siamo al ritorno dal nostro viaggio in sardegna abbiamo fatto e rifatto queste queste operazioni svariate volte eppure la volta che c'è una telecamera non abbiamo alzato sufficientemente il coperchio e ci siamo imbalzati rivedendo queste scene sono abbastanza buffa abbiamo tolto il coperchio comunque adesso togliamo il pannello della diciamo quello che andrà sul fondo della della camera e poi dopo ecco questo che rimane in questo momento è il mobile quello grande che avete visto nelle nelle immagini del video diciamo dei carrelli ecco togliamo anche quello che è il coperchio colori è la parte superiore quindi insomma chiaramente il lavoro c'è il video non l'ho voluto accelerare perché mi sembrava una cosa come voler far vedere che va meglio di quello che va in realtà però chiaramente un po di lavoro c'era a questo punto si allargavano le due pareti laterali e qui ci saranno delle scenette abbastanza buffe perché se mi ricordo bene insomma ripeto dopo averlo fatto tante volte la volta che dovevamo farlo davanti a una telecamera non non si riusciva a imbroccarne una questo era il fondo quindi una volta sostenute due pareti c'era il fondo con due canaline a u e si andavano ad impegnare nel fianchi della 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 parete di legno dopodiché si chiudeva la diciamo l'aggancio molla quello quello che si è visto si è visto meglio nelle fotografie quindi c'è una persona che doveva sostenere e l'altro in fondo che doveva ben o male bloccare adesso se mi ricordo bene qua adesso qualcosa non vava avere sistemato un attimo comunque ok questo è il coperchio c'è un pochino di scordinamento tra gli operatori insieme a moglie staglio della verità in questo questo filmato sempre ripeto sembra che non abbia mai fatto del coperchio ricavate le altre nelle altre canaline erano fissate le altre canaline in alluminio ha sempre in modo che si andassero di impegnare sulla parete in in legno sembra una cosa complessa ma ripete solo perché quel giorno lì che un sabato mattina eravamo particolarmente imbranati in realtà abbiamo fatto molto meglio quando non eravamo ripresi ecco qua allora che non si attacca bene non si aggancia perché sono lì che insisto diciamo coperta questa parte qua e stiamo parlando di tre minuti da quando abbiamo cominciato a guardare il video circa coperta questa parte se anche comincia a spiove chiaro un attimo sei già sei già coperto non ti piove più di luvi non ti piove più dentro al carrello dentro la parte che dove poi vai a dormire quindi diciamo non è non è male ecco come come risultato lì in fondo nella parete di sinistra si intravede la finestra con diciamo l'oscurante a slitta perché c'è un oscurante come a scorrimento e poi dopo c'è il finistrino che si apriva come tutti i finistrini delle delle ruote ecco qua continuiamo a non riuscire ad attaccare questi ganci ma in realtà abbastanza banale la porta era in questa tela è una delle parti direi forse la parte venuta peggio si poteva fare il legno pure questa in effetti invece voluto recuperare una porta di una vecchia veranda che veniva buttata via una veranda che avevamo in famiglia e che in tela e veniva buttata via quindi ho fatto tutto questo sistema che obiettivamente è un pochino boh non è non è non è venuto benissimo era una delle idee che avevo quella di cambiarlo con qualcosa di di legno perché sarebbe stato insomma una cosa fatta meglio ecco adesso apro la porta però era tutta una serie di agganci fatti con delle cose gli elastici da da tenda e quindi dovevano tirare anche un pochino apre la porta perché comunque appunto si vuole far vedere che che c'è una apertura grande come tutta la stanza quello che non c'è questo filmato mi sono accorto è il montaggio del materassino materassino era un materassino matrimoniale veniva filato dentro poi banalmente con una di quelle pompette elettriche veniva gonfiato sul posto quindi niente ma niente particolare materassini che si utilizzano nelle tende per cui sono niente di strano particolarmente interessante ecco qui siamo circa cinque minuti da quando abbiamo cominciato a lavorare e sostanzialmente abbiamo quasi finito la parte che viene adesso che sono altri tre quattro minuti è una parte semi infinita di di tensione del di quella specie di minigonna che c'è intorno anche quella minigonna lì era stata ricavata da questa vecchia veranda era la parte diciamo che va a raccordare la tela al terreno penso so che avevate presente nelle nelle verande infatti vedete adesso tutto un cinghie elastic che tira molla e effettivamente era parte forse un pochino più pallosa mia moglie si sta semplicemente rompendo le scatole infatti lì che guarda diceva sta registrando ancora qualcosa si sta registrando ancora però adesso sostanzialmente la parte da fare in due finita questi questi sono sono i dettagli da agganciare non c'è niente praticamente di particolare c'era una corda intorno che girava sugli occhielli e che doveva essere fatta girare in modo da poter con dei gancettini che si andavano ad agganciare nella parte sotto della della scatola diciamo solo che si era una cosa un po laboriosa infatti siamo là dietro che ravaniamo però stiamo parlando anche qua di di dettagli è che volevo far vedere la cosa fatta bene quindi una bellissima giornata peraltro di di luglio se mi ricordo bene era mattina abbastanza presto perché altrimenti infatti c'è un'ombra un po lunga altrimenti sarebbe venuto troppo caldo alla fine di questo questa sezione di video dopo ce n'è un'altra che vi farò vedere c'è su questo è sostanzialmente il montaggio uno dei problemi che dava questa questa sistemazione rappresenta il fatto che il tetto si vede l'anno con sopra la bauliera quel tetto la adesso rimarrebbe appoggiato lì per terra appoggiato da qualche parte o attorno un albero legato attorno albero quella parte che mi piaceva meno perché sostanzialmente da un impressione di disordine non mi piace insomma ripeto questa parte qua ci non è neanche troppo interessante nella parte successiva che vediamo tra un attimo appena ho finito di di scancherare attorno a quella tela che non si voleva agganciare ma ripeto il fatto fosse attesa bene era importante perché è quella che quando viene il vento ti permette di non riempirti di non far svolazzare via tutto insomma ecco finita questa parte qui ora siamo veramente uno stacco degno di oggi le comiche qui siamo alla parte in cui faccio vedere un attimo come come funzionava poi la preparazione allora questo è il piano c'erano che si sollevavano c'erano due bastoncini che adesso ci sono solo io perché mia moglie ormai non serviva più per questa parte che per far vedere questi bastoni non erano appoggiati basta c'erano due degli come dei piccoli inserti piccoli anelli che lo tenevano i bastoni in posizione quindi non c'era il rischio di farli che anche se sembrano appoggiati così in realtà sono in sede sia sopra che sotto la parte azzurra che ho tolto e rimuo billetto ferrino basso quindi c'erano tutti i due mobiletti e adesso se mi ricordo bene esatto sto prendendo i piedini e sto facendo avanzare la cucina quindi faccio vedere come si montava come si monta ancora perché la cucina di fatto non è cambiata come si 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 estrae e si monta si riesce a fare anche da soli è un po pesante da soli sotto la cucina io ho messo quattro sfere quelle che si attaccano non posso dire per far per movimentare alcuni mobili così quindi sono delle delle sferettine e consentono di non strisciare direttamente tutto il fondo della della cucina sul sul fondo del carrello ma semplicemente di di farlo scorrere ecco questa è una fase che la mia schiena ha cominciato a dire che non gli piaceva nel nuovo nel nuovo carrello questo non è non è più così quando tiro fuori utilizzo il bellino lo scalettino che si usa per salire in in tenda e appoggio la cucina sul questo sgabellino su un gradino dello sgabello in questo modo insomma mia schiena è un pochino più contenta e poi di solito qua siamo in due a muovere il la cucina del carrello qui ero da solo era giusto per far vedere insomma un po anche la capacità di carico che c'era che c'era sotto io direi è tutto non c'è praticamente altro da dire vi saluto vi ringrazio e scusate la solita qualità scarsa ma saluti tutti